Let's go baby! Una piccola intro al video che state per vedere, beh questo video è stato fatto durante l'evento su Nvidia Italia per celebrare 50.000 iscritti e come l'abbiamo celebrato? Beh grazie ad Humble Games ho avuto la possibilità di spacchettare ben 26.000 code points quindi un ringraziamento a loro, ma per prima che, cioè voi diciate ma qui sotto mi bombardiate di domande ma che cosa vuol dire Humble Games? che come ha fatto a darti tutti questi punti bene, Humble Games è un sito dove voi potete registrarvi gratuitamente e giocare a vari giochi, flash game eccetera eccetera sul PC con questi, giocando a questi giochi gratuiti acquisite punti, punti tutto ovviamente gratis che potete utilizzare per comprare ricariche PSN potete comprare crediti PSN, soldi su Battle.net quindi per comprare le carte su Airstone o per comprare le skin su Overwatch potete comprare giochi interi, quindi GTA 5 e COD, i prossimi giochi, espansioni, DLC eccetera eccetera tutto questo giocando solamente a dei giochi flash player gratuiti voglio ringraziarli quindi, citarli in questo video per quello che hanno fatto per me per questo super evento che abbiamo fatto in streaming, questo spacchettamento dei 50.000 iscritti grazie comunque a questi 26.000 code points lo spacchettamento ragazzi è stato fatto poi assieme a Joe e Pratt e la compagnia del disagio, dell'epilessia come la volete chiamare quindi il video sarà divertentissimo, è un po' strano quello che abbiamo trovato perché è un pochino weirdo come spacchettamento spero vi divertiate, let's go baby ah io sono in Francia nel mentre, a revoir ora celebriamo tutti assieme 50.000 iscritti con un regalo che mi è stato fatto di ben 26.000 code points useremo questi 26.000 code points per spacchettare e trovare praticamente tutto quello che serve e che manca praticamente alla lista delle armi, delle skin eccetera eccetera per poi passare su PC a giocare ad Overwatch e far vedere un pochino magari di provate con qualche ex professional player di Counter Strike, Team Fortress 2 eccetera eccetera vedremo se magari riusciremo a tirare in mezzo un Carnifax a giocare per molti che staranno guardando bella raga sto tornando in grande Bruno Vespa comunque per molti che comunque non mi conoscono che vengono dal canale di NVIDIA sono un ex giocatore professionista di Call of Duty per quanto può suonare strano per chi ovviamente segue il mondo del PC e allo stesso tempo mi sto avventurando nel mondo del PC attraverso Overwatch e il suo lato competitivo quindi per chi non mi conoscesse sono qua poi in compagnia di alcuni personaggi sì ed è giusto dire personaggi perché sono veramente dei soggetti e personaggi sto parlando di Joey che molti lo conoscono per le sue storielle molto fantasiose e poi ovviamente abbiamo il buon vratone del nostro sniper sì sono tutte false le storie di Gio ragazzi se le inventa di Gio no non è vero e poi abbiamo Devil Slice comunque per ora ragazzi faremo questo super spacchettamento quindi mettiamo subito la condivisione per tutti gli altri ho sbagliato tasto ho aperto un programma che non dovevo aprire in questo caso ciò 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 l'ho appena messa ah no sto vedendo la streaming bravi stavi vedendo la streaming stavi vedendo la streaming disaggiato comunque ragazzi mettiamo ah se non lo sapete Joey è n***a è venuto viene da Lampedusa no no non è vero ragazzi gli vogliamo tanto bene a Joey anche se è di colore quindi ragazzi è il momento di usare i god points e ora si parte secondo me manco le trovo secondo me manco le trovo le armi sicuramente primo pacchetto la bussola la bussola che mi deve guidare in questo caso alla ricerca delle armi 10 lode come i voti di gioco a scuola 30 bonus ho scritto chiavi aiuto ma come 30 bonus un pacchetto intero mi hanno ridato ragazzi io al posto di tumulato ho letto tumorato eh l'abitudine eh l'abitudine di stare con noi sterzata come vale su sit oh aiuto onesto questo pacchetto eh onesto questo è un pacchetto molto onesto mi stanno venendo le convulsioni a farlo per celebrare che cos'è il mamba nero ragazzi abbiamo trovato il pisello di gioie abbiamo trovato il pisello di abbiamo oh è bellissimo però eh bellissimo però eh bellissimo però eh power se un uomo ricorda il colore dei tuoi occhi dopo il primo appuntamento sai di avere le tette piccole what voglio sentire uno schiaffo quelli alla terenzia tipo addio oh 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 piatemi l'anderculo oh mazza regà subito non le trovo città regà è incredibile subito cioè giove io vorrei una poesia ogni ogni arma è possibile farla tipo una poesia si si chiama giorno ad urlapicchio eh prendiamo tutti il testo eh voi non avete idea di cosa vi sto per leggere ragazzi ogni arma è una poesia comunque ragazzi perché è in streaming product placement ci sono dei giorni smegi e lombidiosi col cielo d'agro e un fonzero con gruto ci sono merì geniali diebutriosi che plodigan sul mondo infragelluto ma oggi è un giorno a zimpaggi e zirlecchi un giorno tutto gnacchi e timparlini le nuvole buzzillano i bernecchi luderchiano coi fernaggi tra i pini è un giorno per le vamvere un festicchio un giorno carmidioso e prodigiero è il giorno a cantilegi ad urlapicchio in cui mi ha detto tamo per davvero io ho fatto incazzare un po' la strema ma non mi sono stati invenuti ragazzi che cazzo sta dicendo cioè che cazzo ha detto io mi aspettavo qualcosa dei più easy è una quesia che l'aveva letta in seconda superiore mi è rimasta nel cuore what the fuck l'rsa interdiction esatto tango ragazzi qualcuno metta la musica del tango per favore che la cosa il versetto poi esce l'incisione per l'xm53 ragazzi una grandissima mimetica che sicuramente utilizzerò ogni giorno che giocherò con love beauty un gatto io c'ho l'inganno per l'xm53 e poi ragazzi mi esce un piede di gioie aiuto grazie esce un piede di gioie suino piene di suino continuiamo con questo spacchettamento prima di fare la streaming molte lui non c'ha photoshop però comunque tante cose non doveva usare su photoshop come lo muto 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 però gioie tanto negro tanto vantoriato però quando usiamo le cose gioie c'è si infatti ragazzi un ringraziamento a gioie un ultimo cosa prima di ringraziare cioè prima di ringraziare bisogna dire questa cosa questo pacchetto sa di america sa di polvere da sparo hamburger e libertà con l'aquila testa bianca si si l'aquila rabiatissima cioè veramente questo sa di libertà è come quando vai in america atterri atterri in america e senti quell'odore di polvere da sparo e frittura è quello ragazzi è quello l'odore dell'america tu arrivi a terra e lo sai è dottor aggiorniamo questo pacco con la testa ma che ha in faccia hai trovato Hulk è vero che cosa schifosa è raga non mi di che sono verde scusami dende qua ci vorrebbe un po' di cali messo così ignorante ti vado a mettere dislike ma vaffanculo ma vaffanculo ma vaffanculo vaffanculo vabbè figa oh ma come figa oh ma che ci fai ma non la userò mai ma come davvero il lanciarazzi potevano anche non metterla ma ti pare che io sono contento di trovare il lanciarazzi cioè al massimo sono contento di trovare il coltello perché è figo da vedere magari ma il lanciarazzi il mitico ma mi può uscire la tizia con la cuffia che è uscita dalla piscina basta finalmente un saluto ragazzi se volete dire qualcosa se volete dire qualcosa in streaming io ci tengo a dire una cosa molto importante ringrazio davvero tantissimo power per avermi dato la possibilità di fare non è vero ragazzi sul mio canale è uscito uno speciale dei 30.000 iscritti ho dimorto uno gioco di falca la venta ciao ciao tutti andiamo a vedermi